A-A-A-A, mi sento quasi in colpa. Lo sai che sono un bastardo pacifista? Io ho quasi perso un occhio. Devi farti perdonare. Oh, ehi, cavolo, attenta che mi fai male. Dovrai farti perdonare come si deve, dico sul serio. E che cosa vuoi? Vuoi che ti porti via da qui? Hawaii, Jamaica, Palme, Mango, i tuoi bei capezzoli che si abbronzano al sole. Basta chiedere, andiamo. Preferisco leccare il culo di quel barbone, piuttosto che seguirti. Ok, allora io non verrò. Portati una ragazza, o anche un ragazzo. Te lo meriti dopo tutto, non credi? Mamma... Se ne stava seduta per ore e... cercava di imitare il cinghiettio degli uccelli. Dopo aver distrutto tutto quello che poteva dentro casa, è stata mandata in un istituto. Mi dispiace. No, piccolo, non ti devi dispiacere. Prendimi la mano. Alla prossima, fermata. L'hanno ucciso il mio amico, piccolo. L'hanno picchiato a morte. L'hanno picchiato talmente tanto che è stato in coma per 13 giorni. È stato bellissimo, Miss Collins, davvero commovente. Grazie, Stella. Ah, sai, è stato un onore lavorare con lei in questi unici anni. Miss Collins, posso immaginarla? E adesso dove la vedremo? In cima alla classifica dei best seller. Sto scrivendo un altro romanzo. Vorrebbe per caso seguire le urme di sua sorella? È decisamente impossibile per me seguire le urme di Jackie, perché che ci credo o no, io sono la sorella maggiore. E di cosa parlerai in questo libro? Non ti posso dire la trama o dovrei ucciderti. Ma sappi che sarà una storia epica di fascino, sesso, passione, tradimento e sesso. Ma è tanto sesso? Ce ne sarà moltissimo. Sono certa che scatenerà uno scandalo. Addio, Steven. Ronan, che cazzo stai facendo? È così che deve andare. Ronan, no. Fidati di me. Ora portalo laggiù. E non perderlo di vista. Signore e signori! Dichiaro aperta l'udienza! L'onorevole giudice David Myers dovrà fare una scelta. Se premerai il tasto rosso, io, il suo unico figlio rimasto, finirai in mille pezzi. Se premerai il tasto verde, sarà il giudice David a esplodere. Se il contatore arriverà a zero e lui non ha deciso, allora entrambi gli esplosivi si azioneranno! Evviva! Cosa sta facendo? Mi farà uccidere tutti. No!